Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Vi vedete un po' distrutta perché sono appena tornata dalla fiera di Cassino e anzi ne approfitto per ricordarvi che sarò al salone del libro Stand Tor Edizioni, quindi se siete da quelle parti durante l'evento passate a trovarmi, insomma. Ci scambiamo due chiacchiere, è sempre un grande piacere. Ma arriviamo al video di oggi. Oggi vi porto il wrap up delle letture di marzo e aprile. Ho fatto un video unico in realtà perché sono stati due mesi molto incasinati, ho letto pochissimo e quindi non aveva senso dividere in due video. Ho accorpato tutto in un video unico. Ecco, dalla stanchezza non so parlare oggi come al solito in realtà. Comunque, cominciamo subito. Cosa ho letto in questi due mesi? Primo libro che ho letto, di cui ne abbiamo già parlato, vi ho fatto la video recensione, vi lo metto su nelle schede, giù nell'info box. Se siete curiosi di sapere un po' più del libro rispetto a quello che dirò in questo video è The Whisper in Dark. Libro uscito solo in lingua per ora ma penso, presumo arriverà anche in italiano perché è un libro che ha avuto abbastanza successo all'estero. È una dark academia fantasy che significa un libro ambientato nelle accademie però con gli elementi fantasy. È un libro che a me è piaciuto tantissimo ma ha degli elementi che non sono adatti a tutti i lettori che insomma possono rendere la lettura non piacevole in base ai vostri gusti. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto di cosa parla. Questa è la mia edizione Illumigrate che è bellissima, bella con le pagine Cosicolo Stensil. Comunque di cosa parla? Abbiamo Delany che è sorda dalla nascita e usa un apparecchio auricolare per poter captare qualche suono ma non tutti, insomma l'aiuta un po' ma non risolve il problema. Delany proprio per questa sua condizione di sordità viene da sempre protetta un po' troppo dai genitori e vive sotto praticamente una cupola di vetro e viene vista come la persona fragile e debole che si può rompere in qualsiasi momento. Delany viene scelta per entrare in un'accademia di persone che hanno doti particolari ossia che hanno connessioni con il regno dei morti infatti in questo corso universitario si studia il modo di oltrepassare il velo e passare dall'altra parte. Quindi Delany viene accettata e lei cerca di vivere questa nuova occasione nella maniera più normale possibile malgrado i genitori insomma la frendendo un po' in questa sua scelta. All'interno di questa università Delany incontra rincontra in realtà Colton Price che sarà il suo tutor, è un assistente universitario che deve guidarla nel suo percorso di studi. Ma a Colton Price viene detto una cosa lui deve stare lontano il più possibile da Delany gli viene proprio ordinato di stare lontano il più possibile da Delany ma questi due hanno un motivo che li attrae un motivo pratico che li attrae ma che non vi dirò perché insomma sarebbe spoiler all'interno del libro Ad un certo punto all'interno dell'università avvengono dei fatti crime delle situazioni crime sulle quali loro si troveranno un po' a indagare perché un po' li toccheranno da vicino e dovranno unire le forze per cercare di risolvere questo mistero quindi si troveranno a dover indagare insieme malgrado insomma insieme non ci debbano stare il tutto contornato da questo università dove il passaggio verso l'oltradomma le capacità di comunicare con i morti insomma sono cosa normale e ricorrente a me è piaciuto tantissimo il libro però ha dei difetti e come vi dico nella video recensione è molto lento si prende veramente tanto del tempo per costruire la storia e soprattutto non ha un world building molto spiegato è sicuramente una scelta dell'autore dell'autrice per darci la sensazione che Della ne vive perché questa mancanza di informazioni lascia un po' spiazzato il lettore a me è piaciuto ma mi rendo conto che se siete dei lettori che hanno voglia di leggere libri che danno spiegazioni di quello che succede intorno ai protagonisti ecco questo non è il libro che fa per voi comunque se siete curiosi c'è la video recensione ne parlo un po' meglio soprattutto in previsore del fatto che magari chissà potrà uscire anche in italiano quindi ecco unica nota se leggete poco in inglese l'inglese è abbastanza complesso quindi in quel caso aspettatelo in italiano perché non è sicuramente un inglese semplice non è decisamente il libro adatto a cominciare a leggere in inglese altro libro letto in questo caso in realtà per studio e amato profondamente è stato I frutti acerbi di Vincenzo Patanè che cos'è? è un assaggio sulle avventure amurose di Lord Byron lo sto leggendo per motivi lavorativi nel senso che sto facendo tutta una serie di letture che mi aiuteranno con alcune cose che devo affrontare a livello lavorativo e ho preso appunto I frutti acerbi adorato dall'inizio alla fine amato immensamente amo il modo in cui Patanè descrive ci racconta un saggio finalmente un modo di scrivere leggero non noioso, non faticoso a volte i saggi sono impossibili da approcciarci e invece Patanè è fantastico infatti finito questo ho preso l'altro suo perché questo in realtà è un sequel dell'altro suo libro su Lord Byron che è l'estate di un giro l'ho preso, trovate usato perché è introvabile e lo sto leggendo quindi anche di quello poi ne parleremo ma insomma ho cominciato in realtà dallo spin off comunque ve lo mostro questa è la cover questo è il retro è uscito per le edizioni Cicero al costo di 18 euro e ha circa 190 pagine e al centro ci sono accompagnato anche da una serie di fotografie legate a Lord Byron parla della vita intima e privata di Byron usiamo termini che YouTube non ci andrà a censurare comunque parla dell'intimità di Byron e ce la fa scoprire un po' a tutto tondo assolutamente amato anche e soprattutto per lo stile di scrittura di Patanè perché appunto come ho detto rende la lettura molto piacevole anche quando è per studio ma veramente molto molto piacevole ve lo consiglio se siete amanti di Lord Byron sicuramente sì anche perché in questo caso I Fulti Acerbi non è cioè è un libro abbastanza leggero mentre le storie di un ghiro è un bel mattonazzo questo è un libro molto leggero ma ricordatevi che parla proprio dell'intimità della vita quindi magari se ci sono lettori che si fanno problemi con alcuni argomenti legati all'intimità ecco sappiate che qui si parla un po' di tutto senza problemi comunque assolutamente se siete amanti di Byron e avete voglia di andare a leggere qualcosa di più su Byron uomo e non solo poeta assolutamente meraviglioso anche se per i non conoscitori a fondo del personaggio il saggio che consiglio maggiormente è i ragazzi che sussurravano al vento mi pare si chiamasse comunque ne abbiamo parlato già un altro wrap up in un altro video perché innanzitutto in quel video lui l'autore in quel libro l'autore paragona non solo Byron mi pare c'erano Shelley e Keats e mette in confronto i tre autori perché è una lettura molto leggera e poi mette in confronto le opere qui della Byron poeta non si parla si parla del Byron uomo è un saggio indirizzato proprio agli amanti della figura di Lord Byron ma come si fa a non amare come si fa a non amare in questo periodo invece sono andata avanti con le mie letture di letteratura sapete se mi seguite che ogni mese leggo qualcosa legato alla letteratura finita la letteratura finita ho deciso di finire terminare perché letteratura italiana è immensa comunque di terminare il mio viaggio nella letteratura italiana per ora e mi sono approcciata a quella inglese in realtà facendo praticamente quasi tutte le letture in questo periodo ma in realtà nel mese di marzo e aprile ho fatto una rilettura è una lettura di una cosa che non avevo mai letto infatti ho letto Lady Susan di Jane Austen della Austen avevo letto tutto alcune cose più volte sapete che se mi seguite che amo particolarmente la Austen che Orgoglio e Pregiudizio è uno dei miei libri più belli per me più amati in assoluto ero partita per rileggervelo di nuovo per tipo la diciottesima volta e mi sono detta ma andiamo a scoprire se io ho letto veramente tutto della Austen e ho scoperto questo racconto Lady Susan che non avevo mai letto in realtà non è un vero e proprio romanzo è più corto chiamiamolo un racconto e l'ho trovato in edizione ebook quindi non ho il cartaceo qui con me e mi sono andata a leggere questa storia che non avevo mai letto della Austen che sicuramente è meno conosciuta devo dire meno conosciuta perché è meno appassionante rispetto ai suoi romanzi ecco se vi devo consigliare la Austen assolutamente partite da Orgoglio e Pregiudizio perché secondo me ma in generale Dice secondo tutti l'overa sua più bella se volete leggere qualcosa di diverso dal solito leggetevi La Bazzia di Northanger che sto rileggendo in questo periodo perché rispetto magari Orgoglio e Pregiudizio ha una base diversa un approccio alla storia diversa mentre Lady Susan lo consiglio giusto se insomma conoscete già bene la Austen e volete un po' andarvi a scavare qualcosa di più a ricercare qualcosa di più come vi ho detto è un racconto quindi non è un romanzo lunghissimo si legge in breve tempo e di cosa parla di questa Lady Susan che scrive lettere che fa cose è un romanzo epistolario e niente odierete Lady Susan con tutte voi stessi e perché è odiosa e niente stai lì fino alla fine sperando che qualcuno gliela faccia pagare profondamente perché è una pessima donna una pessima compagna una pessima madre una pessima tutto è veramente forse il personaggio più odioso scritto dalla Austen e ovviamente in maniera intenzionale cioè la Austen la scrive proprio con l'intenzione di renderla odiosa il più possibile e racconta appunto le vicende di questa nobile donna vicende il tentativo di accavarrarsi ma neanche perché Lady Susan vuole tutti ai suoi piedi calpestando tutti in particolare la figlia per riuscirci e noi vediamo questo suo ennesimo tentativo di raggirare le persone intorno a lei questo è carino sicuramente come vi ho detto non l'opera migliore della Austen carino se avete già letto il resto altrimenti ovviamente il suo romanzo più consigliato mi ripeto di nuovo è orgoglio e pregiudizio quindi magari partite da quello altro libro letto per la letteratura inglese in realtà è una rilettura ennesima rilettura ed è Milton il paradiso perduto in questa mia edizione veramente vecchissima dell'Oscar Mondatori che uscì all'epoca al costo di 12 euro pensate quanto costava nei libri 12 euro per 600 quasi 700 pagine ed è un'edizione con il testo a fronte paradiso perduto è un classico della letteratura inglese secondo me per i miei gusti malgrado le tematiche io le adoro il nostro il nostro anno Dante la vince però qui forse parla un po' di cuore quindi magari per voi non è così di cosa parla vabbè di dire di cosa parla paradiso perduto è veramente un classico comunque abbiamo la caduta di Lucifero da le vette del paradiso a quelle dell'inferno e che è la parte più bella in assoluto di tutta la storia e ovviamente poi la sua vendetta lui andrà a vendicarsi tentando Adam e Eva con la mela e facendo cadere anche loro e quindi c'è la perdizione del genere umano più o meno ovviamente la fa da padrone Lucifero Satana quando questo è proprio l'esempio chiaro e lampante di quando il villa inscritto bene fa il successo della storia perché ovviamente la figura più bella di tutta l'opera è quella di Satana che vince su tutti vi leggo una citazione famosissima ma proprio famosissima l'avrete sentita anche se non avete idea di cosa sia paradiso perduto better than heaven meglio regnare all'inferno che servire in paradiso insomma un grande classico da amare profondamente anche se Milton vista l'epoca per carità il tema molto regato al cattolicesimo è profondamente misogeno quindi la figura della donna vi farà arrabbiare ovviamente presenta le donne come oggetto al servizio della maschio sottomesse incapaci e ovviamente sono loro che causa i mali di tutta l'umanità perché non sono in grado di resistere al male e l'uomo è poverino è obbligato a darsi al peccato perché ama troppo queste donne quindi non vuole lasciarle sole vabbè a parte questi dettagli ma dobbiamo contestualizzare Milton però vabbè ricordiamocelo Dante questo problemino non ce l'aveva non così no no quindi per me Dante è sempre uno scadino sopra anche se poi c'è il satana di Milton che è qualcosa di meraviglioso il personaggio capitemi perché qui mi porto dei messaggi di odio no il personaggio descritto all'interno del paradiso perduto è un personaggio talmente sfaccettato e ben raccontato che è sicuramente un personaggio da amare come si scrive un villain come si scrive un cattivo ecco scrittori imparate da Milton che il cattivo fa la differenza tra il successo e il fallimento di un libro perché se questo libro non avesse avuto un villain scritto così bene non sarebbe rimasto nei secoli così famoso tanto da arrivare fino a noi con questa grande fama e anche amore nel leggerlo perché tutte le parti legate agli angeli caduti e sono sicuramente molto molto belle molto sentite molto emozionanti quasi si parteggia per Satana perché si capiscono le sue difficoltà mentre quando ci tengono raccontati ad Amedeva lì si guarda un po' dall'alto in basso come per dire poverini perché sono veramente due personaggi noiosi senza nessuna verba giusto un po' Eva quando lei brama un po' la conoscenza e cerca di emergere rispetto a quell'altro che ci avvicino sicuramente brilla un po' di più però sono personaggi veramente monotoni mentre le descrizioni del villain sicuramente sono la parte che appassiona maggiormente il lettore perché sono tormentate sentite molto umane e quindi sicuramente quelle sono le parti anche più belle da andare a leggere ve lo consiglio in realtà non è una lettura molto semplice perché vedete in versi poi io vabbè ho questa traduzione vecchissima che proprio non aiuta tanto diciamocelo magari cercate una traduzione più moderna oppure se leggete in lingua leggetelo in originale anche se anche in quel caso non è leggerissimo perché la scrittura di Milton è un inglese antico non è un inglese moderno quindi insomma non è semplicissima da andare a leggere però se avete voglia di andare a scoprire un classico inglese e metterci magari un po' di impegno perché non è proprio una lettura leggera assolutamente consigliata almeno le parti che riguardano la caduta degli angeli insomma per le letture di letteratura inglese in realtà ho detto ho letto pochissimo questo mese quindi è tutto passiamo ai fumetti perché ho letto in realtà solo due cose ma due cose molto molto belle innanzitutto ho letto Persephone Ad Instruments che è una una graphic novel uscita in webcomic credo all'inizio e con questo volume unico in inglese io l'ho trovato su Amazon a un prezzo irrisorio in realtà quando l'avevo visto era un prezzo altissimo tipo 30 euro e a un certo punto ho trovato una mega offerta su se 4 euro l'ho pagato praticamente niente quindi se siete curiosi vi metto comunque come tutti gli altri cose il link nell'info box e vedete insomma che prezzo sta se siete curiosi di andarvelo a leggere comunque poi vabbè Ad El Persephone potevo non andare a leggere tutto quello che c'è di Ad El Persephone la cover è bellissima e bellissimi sono anche i disegni racconta la storia di Ad El Persephone da un punto di vista un po' diverso rispetto al solito un punto di vista molto anche delicato ma molto leggero molto divertente senza prendersi troppo sul serio guardate qui abbiamo il nostro Ade colpito dalle frecce di Cupido disperato disperato indovinate un po' perché non voleva innamorarsi ed eccolo qua qui lo abbiamo quando viene colpito proprio dalla freccia assolutamente molto carino è autoconclusivo si legge veramente non niente perché ha 160 pagine 170 circa 170 pagine e avete visto insomma le pagine si leggono abbastanza velocemente ma assolutamente molto carino se siete amanti di Ad El Persephone oltre dopo aver letto il mio facciamo un po' di autopromozione sicuramente ve lo consiglio soprattutto se siete in cerca di qualcosa di molto leggero e divertente da andare a leggere sul tema quindi assolutamente consigliato invece da una lettura molto leggera passiamo a lettura molto 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 faticosa ma bellissima praticamente da tutte 5 stelle su 5 ho recuperato usato Innocent la prima parte perché poi esiste Innocent Rouge che è un manga di Kakamoto perché l'ho recuperato perché quest'anno dovrebbe uscire in Italia è stato annunciato il suo Dracula e quindi dovevo andarmi a recuperare anche questo vediamo che cosa posso farvi vedere perché è truculentissimo questi sono i disegni che sono davvero molto belli molto curati anche se fa un abbondante uso di asset il nostro autore quindi a volte un po' anche troppo che cosa sono gli asset sono dei 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 modi di aiutarsi tramite foto e sfondi pronti sul computer ovviamente non sono assolutamente contraria anzi a volte gli autori non sanno mixare bene le due cose Sakamoto ci riesce in maniera divina a volte ce n'è un uso spropositato ma guardate che belli i disegni assolutamente meravigliosi ho detto che non so parlare oggi di cosa parla parla della boia di Parigi durante la rivoluzione francese quindi Charles Henry Samson un po' di tutta la famiglia Samson in realtà questo Innocent si basa sulla storia di Charles Henry fino alla rivoluzione francese poi c'è Innocent Rouge che va dalla rivoluzione francese in poi che io ovviamente andrò a recuperare perché ho amato la follia questa storia In contemporanea alla storia di Samson che si rifà molto agli eventi storici Sakamoto aggiunge un grande omaggio alle rose di Versailles Versailles Nobara romanzando la storia di uno dei personaggi all'interno del manga proprio con un grande lungo omaggio a quella che praticamente in italiano conosciamo come Lady Oscar che ho amato immensamente è come leggere Lady Oscar in versione molto cruda e molto matura bellissimo ovviamente c'è da dire che è tutto molto crudo da qualsiasi punto di vista dal punto di vista della violenza della sessualità delle violenze subite anche da personaggi molto giovani quindi se siete lettori delicati no assolutamente statele lontano perché non ci risparmia niente lo fa in maniera molto cruda e non solo non solo nelle immagini ma proprio nella narrazione c'è a un certo punto descritta la violenza a una bambina molto piccola di nove anni credo non ci viene fatto vedere niente l'autore parla tantissimo per metafore tutta il manga è spesso e volentieri parla attraverso metafore ma forse è anche più cruda la metafora rispetto al mostrarci la scena sicuramente se siete lettori sensibili statene lontano perché bisogna affrontare la lettura in modo non dovete leggere in un momento di fragilità perché vi distrugge assolutamente consigliato a chi ha amato anche per Saino Bara e ha voglia di leggere qualcosa di così maturo e così profondo ma assolutamente è una sicuramente una lettura da fare in età adulta e da fare solo e soltanto se siete pronti psicologicamente perché è davvero impegnativa dal punto di vista psicologico ma bellissima poi ecco c'è questa nota delle metafore che l'autore usa proprio ci sono tutta una serie di scene che non vengono raccontate ma vengono rese attraverso immagini appunto metafore di quello che sta succedendo che sono bellissime la narrazione è stupenda molto lenta in alcuni punti velocissima in altri ci sono grossi salti temporali alcune cose non ci vengono dette per esempio c'è tutta la parte del matrimonio di Sanson che viene saltata a più e pari perché non ha importanza a livello del messaggio che appunto è quello degli innocent cioè degli dal titolo degli innocenti che sono obbligati a sporcarsi le mani e questa dualità di definire innocente un boia che per lavoro uccide viene molto ben spiegata all'interno del manga è molto sentita e ripetuta e ha un finale meraviglioso che aprirà poi appunto a Innocent Rouge e a quello che sarà la rivoluzione francese e Innocent Rouge prende proprio il nome dal fatto che l'innocenza si tinge di rosso quindi si tinge di sangue bellissima ha un sottotesto di messaggi che arrivano da questa storia che sono veramente molto belli molto difficili anche da mandare giù sono un po' cazzotto nello stomaco quindi ve la consiglio assolutamente è una storia meravigliosa ma solo e soltanto se siete pronti a leggere questa cosa se avete un'età tale che vi siete costruiti psicologicamente e che non è solo una questione anagrafica ma proprio una questione di costruzione della della propria personalità senza o comunque in un momento senza troppe fragilità perché è un fumetto che vi distrugge la cui lettura vi distrugge assolutamente comunque questo è tutto per le letture di questi due mesi è venuto un video un po' più lungo ma fare due video separati non aveva assolutamente senso fatemi sapere cosa avete letto voi speriamo di recuperare a maggio con qualche lettura in più ma è iniziato malissimo non ho ancora letto niente comunque fatemi sapere cosa avete letto voi questo periodo cosa state leggendo se quello che state leggendo vi piace oppure no noi vi ricordo ci vediamo al salone del libro a Torino non vedo l'ora ma sono stanchissima spero di riprendermi da qui a lì ce la faremo ce la faremo ce la faremo in un buon intanto auguro buona lettura a voi buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.